ciao ragazzuoli benvenuti in questo nuovo video video one shot ci stiamo preparando in realtà per andare via questo fine settimana chissà dove lo vedrete nei prossimi video nei prossimi video intanto godetevi sto video one shot di una discesa che abbiamo provato a tirare a pila quindi se vi siete persi l'ultimo video di pila andatevelo a vedere quindi video one shot di una delle discese di pila l'unica che ho provato a tiracchiare un attimo sicuramente si può abbassare parecchio il tempo provato a tirarla non conoscendola bene non ricordandomi bene tutte le curve e tutti i doppi che ci sono dentro è una discesa molto flow come potrete vedere con qualche rilancino e niente buona visione ricordatevi di iscrivervi al canale mettere un bel like se vi piace nel video e alla prossima ciao belli ciao ciao oh cosa è successo io ho sentito urlare non hai sentito urlare ah 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Oh vaffanculo. Non lo sapevo che era un doppio. Oh vaffanculo. Oh vaffanculo. Oh. 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 come